Rivolgo un caloroso agurio a tutta la comunità di Pesaro e grazie a Rossini TV colgo l'occasione perché questo agurio lo esprimo anche a nome della Chiesa che è in Pesaro. Quale può essere l'agurio più vero, più sentito e più motivato? Per chi ha fede l'agurio di Buona Pasqua vuol dire un agurio che ci porta a fare l'esperienza della risurrezione del Signore. Nella condizione umana tutti abbiamo necessità di appellarci alla risurrezione del Signore. Ma oltre alla condizione umana che di per sé lo chiede, noi stiamo vivendo anche un momento difficile dovuto alla pandemia la quale invoca risurrezione, recupero, ripresa, rigenerazione. Abbiamo un futuro da costruire e allora qualcuno anche si chiede ma l'esperienza della pandemia in prospettiva futura ci sta insegnando qualcosa? Ci sta dicendo qualcosa? Giusta l'osservazione di Papa Francesco il quale dice non c'è crisi peggiore della pandemia se non quella di dimenticare ciò che abbiamo appreso in questo tempo. E allora cosa abbiamo appreso? Almeno, almeno abbiamo appreso, cari amici, tre cose. La prima. La pandemia ci ha insegnato che c'è un processo di maturazione umana in corso nella quale noi siamo tutti inseriti. Confrontarci con il dolore, con la morte, con la sofferenza è lezione di umanità. L'umano comprende anche queste esperienze. Se poi aggiungiamo anche un processo di fede allora ancor più la maturazione umana diventa di un certo spessore perché è animata e vivificata dalla fede. Stiamo crescendo anche sul piano della maturazione cristiana. Non più una fede fatta di buone tradizioni ma una fede fatta di forti convinzioni. Ma aggiungo anche un altro elemento. La pandemia ci sta dando anche una grande lezione di condivisione. Maturazione sì, ma anche condivisione. In questi giorni, in questi tempi, in questa stagione abbiamo toccato con mano quanto sia importante riscoprire un rapporto relazionale con gli altri. Relazionale e fattuale anche. Ne abbiamo tante prove, tante dimostrazioni, tante esperienze. Tutto questo ci dice che abbiamo bisogno degli altri. E chi ha più di più deve anche condividere chi ha di meno. A livello di salute, a livello economico, a livello lavorativo, a livello esperienziale, a livello educativo. Ci sono tutte le sfaccettature della condivisione per cui l'esperienza della pandemia è diventata una grande lezione per uscire fuori da quella che noi chiamiamo l'immunità e proiettarci sempre di più in una cultura vissuta di comunità che vuol dire condivisione. Ma aggiungo anche un terzo elemento. L'esperienza della pandemia ci sta anche insegnando la necessità oltre che l'opportunità della conversione che vuol dire cambiamento. Tutti siamo chiamati a cambiare stili di vita, scelte, modi di approcciare la realtà e siamo cambiati anche a cambiare la nostra prassi di vita ecclesiale, di vita della Chiesa. Certe situazioni di emergenze ci stanno mettendo di fronte a una nuova impostazione di vita della Chiesa. Certo, è un'impostazione gradualizzata ma comunque già in atto. E allora il mio augurio, carissimi amici, è questo. Non lasciamo passare in vano tutto quello che la pandemia ci ha insegnato. Celebriamo la risurrezione del Signore, sperimentiamo questa realtà sulla nostra pelle perché la liturgia va vissuta, va tradotta in fatti concreti ma anche avvalendoci di questa grande lezione, triplice lezione, di una comunità che non solo si prepara al futuro ma che costruisce il futuro, cosa diversa, facendo leva sull'esperienza della maturazione umana e cristiana, facendo leva sulla condivisione, facendo leva sulla conversione. Buona Pasqua a tutti. Grazie a tutti.